La capolista Libertas Spes si inceppa nuovamente sul campo della Podenzanese, un 2-2 che consente a San Filippo e Graniano di scalzare i ragazzi di pezza dal trono del girone A di terza categoria. E la gara con i Valnurini si apre come meglio non potrebbe per Aristei e compagni. Bitta è disastroso sulla conclusione mancina di Angov e al decimo è già 1-0. La capolista non molla la presa e ancora Angov tenta il bis ma questa volta non inquadra il bersaglio con il mancino. I padroni di casa si fanno vivi a metà frazione ma l'inzuccata di Galuzzi si perde sul fondo. Il centravanti poco dopo ci prova con il sinistro ma senza fortuna. La Libertas prova allora ad infliggere il colpo del KO ma lo fa con scarsissima convinzione. In apertura di ripresa è Bordi a sprecare una palla che meritava altro trattamento. Chiesa con il destro e Garilli per vie aeree ci provano ma il vantaggio della battistrada regge. Fino al 59esimo quando Costa rimane immobile sull'inzuccata di Risoli che griffa l'1-1. Puliti è tra gli uomini più in forma in casa Libertas ma al 67esimo è Olmi in mischia a riportare avanti i suoi. Un vantaggio che dura poco perché sette minuti più tardi Mazzocchi stende Scardina in piena area dal dischetto Ferrari non sbaglia e fissa il 2-2 finale.